Bancada CNRT apprecia il Presidente della Repubblica, Francisco Guterres Lolo, la promulga l'irresponsabilità di Presidente della Repubblica. Bancada CNRT Carmelita Caetano Moniz-Rateteng, ma che Bancada Governo e Parlamento Nacional esforzo máximo che discute e non approva il progetto dell'irresponsabilità di Presidente della Repubblica, ma che il Presidente della Repubblica ne la consegue autopromulgar l'irresponsabilità di Presidente della Repubblica. Bancada CNRT Bancada CNRT Carmelita Caetano Moniz-Rateteng, ma che il Presidente della Repubblica è una buona decisione che la promulgale l'irresponsabilità di Presidente della Repubblica. la Repubblica. La legge è la proposta della Costituzione, che viola la Costituzione della Repubblica. La legge è la Commissione, ma la concorda con la legge. La dottor Ramazzotti è stata fatta la fiscalizzazione preventiva della Costituzione della Tribunale. Il Presidente ha la competenza della Costituzione, ma la legge è la Costituzione. Analizzati con la legge è importanti gli deputati della regione, le Banca di Frecklin e la Banca di Tolu, che sono consciente di avere la legge chevano il Presidente della Repubblica, che sia una violazione grave e grave in particolare della Costituzione della Repubblica. Il Presidente non è ordinario, ma è arrivato al Presidente della Repubblica. Vice-presidente del Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, reconhece, lei refere, la consegue retta promulgação, tamba tempo la sufficiente, ma e beh, e a competenza, chefe de Estado attual, atto continua forte decisão, o russo tribunal alla fiscalizzazione. Passa a falibar, novo presidente nel lima, atto bele, e a presidente fondi nel mandato, atto bele promulga. Agora, presidente fondi nel direitto constitucional, atto promulga, ou veta, ou ira periodo 30 dias nelara, atto russo, periodo 20 dias nelara, atto russo, tribunal alla fiscalizzazione preventiva, e la fiscalizzazione preventiva della constitucionalità. E non è cambiare la competenza, sua excelenza, presidente della Repubblica fondi nel tribunal, voti deciso constitucional o inconstitucional, e a nabama, presidente della Repubblica, si voti nella posizione politica, sobre decisão, tribunal recurso nel con la valore responsabilità del presidente della Repubblica. Diplomas o decreto lei si era nebemaca, governo submeto, atto presidente sessante, atto bele promulga, mas tamba tempo, badakli unia mandato rotuona e la consegue promulga, claro che denè passa, presidente fondi nel bemaca, ira ona plenus poderes, atto unia, ma continua a falare, ha la responsabilità denè, di promulga, ou veta, baseia, competenza constitucional nel presidente della Repubblica, ira. Parlamento Nacional approva progetto lei con la responsabilità del presidente della Repubblica, nebbe appresenta, russi bancada governo, PLP, Fretlin, no conto e a loro anzano ressignen, fulano maio, né? Progetto lei, né? Passa e a discussão final global, voti a favor, tolano ressigni lìma, contra ruano ressignat, no abstenzione zero. A lei in dene, ex-presidente della Repubblica, Francisco Guterres Loulomos, la consegue promulgar lei con il nuovo Statuto Magistratura-Ministro Público nel Parlamento Nacional Haruka, desde Tinancoto.